Il tendone allestito qui in San Pietro in Vincoli, siamo dietro a Portapalazzo, ospiterà dal 12 al 21 uno spettacolo dal titolo Test Circus. È uno spettacolo in cui c'è una sorta di connubio fra attività di circo e anche cibo. Come sarà questo legame? Allora, sulla tavola montata sotto il tendone dello spettacolo verranno serviti dei vini di un progetto che si chiama Bianco Rosso Libero, un progetto solidale di comunicazione dell'associazione Sapori Reclusi, che è un'associazione che si occupa di carcere e di situazioni di esclusione, che porterà sulle tavole degli italiani delle bottiglie a cui sono legati dei racconti tratti dal carcere e delle foto di Davide Dutto. Questi racconti servono per portare un messaggio di inclusione e di contatto tra realtà spesso che non entrano in relazione tra loro. I vini sono della tenuta Garetto, di Aliano Terme, un barbero e un cortese. L'operazione viene facilitata dalla distribuzione nazionale di due aziende, che sono Le Vie del Calice e Wine Bank Italia, che hanno partecipato all'ideazione del progetto. Insieme abbiamo deciso di fare questa cosa per ottenere dei fondi e sostenere i progetti dell'associazione. Quali sono gli altri progetti dell'associazione? Voi siete particolarmente votati alle questioni del carcere, ma abbinate un po' la questione del cibo, perché anche il cibo è una via per arrivare agli ultimi. Esatto, l'associazione nasce proprio da questo comune bisogno dell'uomo di nutrirsi e rimette il cibo al centro come momento di incontro e di ricostruzione di identità delle persone. L'associazione nasce sulla scia dell'attività di un fotografo che si chiama Davide Dutto, che ha utilizzato queste sue due passioni, la fotografia appunto e il cibo, per portare gli chef stellati in carcere e cucinare con i detenuti. Da qui sono nate una serie di attività, progetti di fotografia, libri eccetera, che hanno facilitato questo incontro e dato origine a tutta una serie di altre attività.